Era la notte del 24 agosto 2016 quando una scossa magnitudo 6 ha messo in ginocchio il centro Italia. Pronto? Sì, pronto, la sento, dica signora. Certo, scato tutto. Allora, ascolti, mi dica da dove... Che sono fatto? Signora, sì, devo sapere... Signora, per aiutare... A tre anni dal terremoto, gli agricoltori, gli allevatori e i pastori delle zone colpite hanno animato a Roma il maxi-mercato organizzato da Coldiretti e Campagna Amica. Questa mattina nella capitale si è potuto acquistare il pecorino di Farindola e quello di Campotosto, la patata turchesa e salumi terramani, ma anche il ciauscolo marchigiano, le lenticchie di Castelluccio da Norcia e il pecorino laziale. La terra non trema, il coraggio dei contadini, e questo è lo slogan della manifestazione. E i contadini di coraggio hanno fatto prova per davvero, considerando che in difficoltà ci sono 25.000 aziende agricole e stalle censite nei 131 comuni terremotati tra Lazio, Marche e Umbria e Abruzzo. E proprio in Abruzzo, fa sapere Coldiretti, si registra un crollo del 70% della vendita dei prodotti locali, che gli agricoltori e gli allevatori sono riusciti a salvare dalle macerie garantendo la continuità produttiva. E benché i turisti stiano pian piano tornando, in crisi anche gli agriturismi. E questo a causa soprattutto dei pesanti ritardi della ricostruzione, che ancora oggi prosegue con colpevole lentezza. L'Abruzzo doppiamente colpito, in quanto ancora profondamente ferito dal sisma del 2009. Ma nonostante tutte le difficoltà, gli agricoltori non si arrendono. È importante affrontare con misure adeguate le conseguenze del terremoto, sottolinea Coldiretti, per riportare alla normalità l'Abruzzo e tutte le regioni colpite.